Cosa voglio per il futuro di Trebbia? Io vorrei un paese in cui i giovani possono realizzare i propri sogni e migliorare il proprio futuro e le proprie qualità. Secondo me il futuro di Trebbia e San Nicola è il mare. Io vorrei un paese dove il turismo possa diventare occasione di crescita lavorativa per tutti. Io vorrei un paese che promuova più azioni di intervento sociale. Voglio che questa piazza torni il culpio della vita culturale e sociale di questo paese. Nel futuro di Trebbia vorrei che la ricoltura forse resta al primo piano. Una vita migliore per i miei concittadini. Spero che questo comune di Trebbia faccia migliorare tutta la popolazione, di tutte quelle che hanno volontà di lavorare. Vorrei un paese in cui l'associazionismo possa diventare una reale e importante occasione di crescita per tutti i ragazzi del nostro paese. Voglio un comune che si occupi di scuola. Voglio un paese che faccia del mare la sua riccazza. Voglio un paese in cui i giovani siano protagonisti. Voglio che il vento cambi. Impegniamoci per un paese profondamente diverso. Impegniamoci per una Trebbia dove ci sia il diritto e non il favore. Impegniamoci per una città in cui i cittadini, e soprattutto i più deboli, siano protagonisti del proprio futuro. Il mio impegno è per un'aria nuova, per un'aria pulita.